Devo dire che sono rimasto molto colpito, è una struttura molto bella che denota tutta la cura che è stata messa nel pensarla e nel costruirla. È una struttura bella, funzionale, sicura, è una cosa che colpisce molto, colpisce il fatto che sia il frutto, anche questo è veramente importante, dello spirito di iniziativa dei genitori, dei ragazzi e che questo sia proprio il frutto del loro lavoro e del loro impegno. Per noi come aeroporto di Roma è importante, è bello poter dare una mano, dare un contributo per questa iniziativa così umanamente carica di significato. Io credo che per i ragazzi sarà bello, sarà bello stare qui, sarà bello poter qui giocare, crescere, costruire il loro futuro. Credo che questo sia un messaggio molto forte, veramente grazie ai genitori dei ragazzi e per noi è stato e sarà bello essere parte di questa iniziativa.